Con la vasca, prendevamo la vasca e tenavamo un po' sui vacanze di ricuetti, no? Guarda che non ci accettavamo cosa. Io a nessuna banda ce l'ho. Non è il mio abituto. Lì ero pieno. Ma lì da là o caffè o un bicchierino o qualcosa abbiamo ci accettato. Si, era così, eh? Si. Grazie.